benvenuti benvenuti cari amici siamo vedi questo nuovo video naturalmente come sempre ricordati distrutto il like iscriviti al canale e iscriviti al canale telegram andiamo a vedere quello che sta avvenendo sulle alco in questo momento dopo il rally o che di eri in più in particolare caratterizzato anche dello skyrockets di shiba inu che andremo a vedere assolutamente in questo video più 8 per cento sul giornaliero giornata odierna troviamo la maggior parte dell'alcone letteralmente in rosso a guidare ok questo profondo rosso è il token di q coin col meno 9.4 per cento al contrario troviamo tra su wallet unica ok coin in positivo con più 5,6 per cento insieme a cava più 3 2 a 7 per cento ora andiamo un attimo analizzare bitcoin perché di fondamentale importanza ok come sappiamo analizzare bitcoin e poi ethereum e poi infine andiamo a vedere sulle alco in che a me da un punto di vista principalmente maggiormente interessano per cui bitcoin in questo momento 26.396 dollari siamo andati ad attaccare quella che era un'importante di estenza di 26.6 tra l'altro passata anche se arrivati a 26.9 in data 17 giugno 2023 ora cosa potrebbe avvenire abbiamo questo importantissimo supporto dei 25.262 dollari che deve tenere assolutamente vi ho detto più volte che se andassimo ok letteralmente a perderlo secondo me il trend letteralmente inverte tra l'altro che cosa potrebbe essere interessante un'eventuale lateralizzazione anche in area 26.6 barra 25.2 potrebbe proprio in escarno al coinciso andrò a vedere dopo quali sono anche i fondamenti però l'aspetto fondamentale che in questo momento il supporto 25.2 sta tenendo perché proprio 25.2 abbiamo in concomitanza un RSI in questo momento di 36.27 che più volte è tenuto testato in data 12 maggio poi 24 maggio 6 giugno e 14 giugno quindi sembrerebbe che ogni 12 giorni abbiamo questo nuovamente retest del supporto dei 37.27 per quanto riguarda le RSI dopodiché andiamo a vedere anche situazioni weekly perché di fondamentale importanza vediamo da praticamente 10 settimane di ribasso come possiamo vedere siamo passati 31.453 ai 25.000 dollari ora andremo a vedere anche come andremo a chiudere letteralmente questa settimana nel caso di chiusura superiore rispetto a quella precedente potrebbe letteralmente essere iniziato universo per un ultimo rally di mercato questo quello mi aspetto come detto secondo me poi sarà una grande caristia andiamo a vedere anche quella che la bitcoin dominance è proprio da qui che potrebbe scattare l'alcone season perché bitcoin sta prendendo sempre più forza sulle alco in questo momento abbiamo rotto anche quella resistenza dei 49 e siamo in questo momento a 49.73 quindi altro elemento fondamentale da andare a vedere ok in questi giorni se effettivamente la bitcoin dominance continuerà a salire oppure andremo giù bisogna per cui ritestare zona 49 che potrebbe essere un valido supporto come vedete ritestato qui però poi la bitcoin dominance è andata letteralmente su però come vi dico prima o poi le alcoin devono ripartire ok secondo me li stiamo trovando a prezzi davvero scontati andiamo a vedere reterium che ha perso anch'esso tantissimo nei confronti bitcoin siamo a 1721 anch'esso è un'importante zona di resistenza in questo momento 1719 che deve assolutamente rompere siamo tutti sotto le medie mobili media 20 media 50 media 100 e 200 quindi attenzione iter o ha un momento di impulsare il sistema secondo me ci sarà un ultimo rally di mercato oppure anche qui sarà ok dolori questa un problema idea quindi riassumendo quel mio discorso per il breve potremmo prendere andare su anche me era molto veloce però poi ci sarà una bella dip quest'estate questo è quello che io mi attendo ora ne vedo la situazione alcoin perché siamo a 20 sui ultimi 90 giorni a 8 sui 30 quindi molto interessante secondo me tradare soprattutto nel breve le alcoin e a 20 sull'annuale quindi questo un altro elemento fondamentale che noi dobbiamo andare a considerare tutti e tra gli archi temporali in questo momento ci stanno dicendo le alcoin sono fortemente sottovalutate dopodiché andiamo a vedere anche la crypto del market cap in questo momento siamo a 1.03 trillions quindi stiamo tenendo comunque il supporto di un trillion se arrivate a 9191 miliardi arrotondiamo un trillion in cocomitanza proprio di un 30 di RSI quindi l'ultimo punto avevamo avuto questo ok 30 RSI 11 marzo 2023 poi ci fu letteralmente un rally di mercato fino a 1.25 trillions quindi potenzialmente secondo me una nuova rank come detto più volte ci sarà e in particolare andiamo a vedere la total 2 perché la total 2 ci dice la seguente cosa abbiamo supporto zona 426 426 miliardi quindi potenzialmente una perdita media ancora sulle alcoin del 17 per cento contro un rendimento del 33 per cento quindi in questo momento sembrerebbe e ovviamente io vi dico sempre quella che è la mia opinione non sono le cose finanze e le cose di trading che sia buono che essere sulle alcoin però ovviamente nessuno che sa quello che succederà però naturalmente io vado a modulare le mie strategie anche interno dei cowboy sanno quella che è la mia strategia in questo momento quindi se anche tu vuoi conoscere il protocollo di Xbox Cowboy puoi notare il tuo collo gratuito trovi sotto il link in descrizione ora andiamo a vedere quello che sta venendo sui meme token e poi andiamo a vedere anche la sezione metaverso secondo me anch'essa molto ok è stato valutata andiamo a vedere i meme token perché capitalizzano in 14 miliardi io vi volevo ricordare come all'epoca che ho detto mai ad esempio shiba me lo ricordo benissimo e se c'era anche tu in quel momento scrivilo sotto nei commenti stavamo a 60 miliardi solo su shiba cioè non consideriamo dogecoin che eravamo oltre 100 miliardi quindi secondo me questa è un'industria del futuro che tornerà a pompare ma di brutto quindi non è che vi do il 10x facile però secondo me torneremo ok su queste cose ovviamente il pezzo da pagare in breve è la sofferenza ok ma ci sta tutto ci sta quindi dogecoin 8.6 miliardi shiba inu 4.2 pepe 391 ok chi è dentro i cowboy sa quella che è la mia strategia attuale sui meme e su quali meme io sono esposto e che ho anche le allocazioni ok quindi aggiorno sempre su questo dopo di che andiamo a vedere sezione metaverso perché c'è una new entry ok render che non le avevamo nel precedente bull market e fatela a studiare e internet computer letteralmente crashata e vorrei dirvi come questo mercato capitalizza 6.3 miliardi c'è solamente sandbox all'epoca stavano in 20x quindi capitalizzava 14 miliardi giusto per darvi dei termini e paragone visto che anche questa è un'industria che tornerà buona andiamo a concentrarci sempre sui meme perché dogecoin prezzo miliardi in questo momento di 0.06185 dollari abbiamo avuto addirittura di 0.054 e vorremmo sapere che quello che è l'andamento di dogecoin in questo momento siamo praticamente a marzo 2021 quando il prezzo ok di doge era bassissimo e secondo me la propulsione del sistema l'avremo ok ovviamente qui qual è la variabile c'è la variabile hello mask ci sono tantissime variabili ok però secondo me dogecoin è una coin che tornerà poi shiba inu 723 pezzo nominale bella risposta parte di shiba qui sul weekly abbiamo fatto quasi 30 rsa e ora sembra essere iniziata letteralmente una spinta ovviamente chi del ricavui sa quando io deciderò di uscire da shib però secondo me molto interessante tutto addirittura ieri abbiamo spinto fino a 7 e 58 quindi direi assolutamente shibismo unica religione dopodiché andiamo a vedere pepe pepe è tra cui molto interessante in questo momento siamo a 9 e 20 abbiamo questo supporto in zona 8 e 30 che sembra in questo momento tenere e questo perciò che riguarda il settimanale veniamo da una due tre quattro cinque sei sette settimane letteralmente decrescenti e anche su pepe non mi sorprenderebbe nuovamente un rally in mercato qui su pepe che strategia ho chi dentro i cowboy ovviamente la sa e secondo me la strategia è molto interessante ok vi dico subito poi vorrei dire una cosa se anche voi ok e sottolineo se anche voi volete trovare pepe in questo momento sto utilizzando bitcat trovi sotto nella fine descrizione avrai 20% di sconto sulle trading fees infine se anche tu vuoi aumentare quelle che sono le tue skills all'interno del mondo crypto ma soprattutto iniziare a capirci qualcosa all'interno di questo far west perché questo è letteralmente un far west puoi venire a conoscere i protocolli del tuo cowboy ti ricordo che io vado letteralmente a selezionare le persone che entrano all'interno del gruppo quindi non è per tutti e ci vediamo ovviamente in colti basterà cliccare ok qui e schedulare la tua colta e per questo ti è piaciuto questo video ti ricordo di sottolineare like iscriviti al canale e noi ci vediamo presto hasta la vista ombre